let's go benvenuti lupetti in questo nuovo episodio di spacchettamenti di carte pokemon nello scorso episodio abbiamo spacchettato questa mini teen di manapi e oggi andrei abbiamo anche aperto due bustini di destino splendente queste molto belle oggi dobbiamo aprire una mini teen di ok non credo ci sia tipo una marca però vabbè questa meeting contiene due bustini di espanso gioco di carte collezione video e poco una moneta pokemon e vabbè la carta illustrazioni su quanto quindi devo andare ad aprirla se trovo un posto per aprirla ok da qua apriamola da qua e siamo a posto perfetto eccola qua molto bella vi dico già quando ho più spazio non riusci a trovare un modo per avere più spazio apriamo anche carte ok nata ma dai altra medaglia youtube è molto carina lo stesso stavo dicendo quando poi riuscivo a trovare lo spazio riuscirò esisterò anche ai aperture di di carte più grandi tipo anche la confezione da del gioco il tabellone deve essere tipo di carte pokemon che c'ho già qua a prima andare avanti abbiamo trovato sole luna sintomi sintonia mentale e anche un spada e scudo fra gore ribelle molto bella ok quindi andiamo ad aprire prima spada e scudo però posso le luna devo dire non vedo veramente l'ora che facciano le nuove carte diamante lucente per la splendente perché credo che le faranno e noi bustine quel senti quella serie di ok codicino come sempre poi cerchiamo di prendere le carte se riesco senza rovinare la busta ok venite fuori perfetto quindi prima fa il trucchetto una due tre quattro cinque e sei perfetto iniziamo coffing shins diamask applin a tenna eracross rettino di recupero morpeco energia non so che energia sia un dragapult bimax molto bello e un giarados perfetto per adesso è la miglior carta abbiamo trovato per adesso comunque un pacchetto da aprire quindi diamoci da fare non so se si sente che per apprezzata una moto però vabbè ok ho fatto parte tutte le carte se vado a raccogliere codicino ok ragazzi sono riuscito a recuperarle tutte eccole qua partiamo dalla parima mi scuso se hai sentito qualche rumore della sedia tipo che si muoveva però vabbè un srummish quello che si pronuncia così energia fuoco stene uh bella questa un del mise un drifon dev pire de dev pider creogonar mare anie do brade un medium e un'altra molto carina un gar chop ok perfetto come sempre il video finisce qua spero che vi sia piaciuto se sentite mi piace condividete iscrivetevi al canale e accendete la campanella delle notifiche noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi